In questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e gli anticoncettivi. Quindi uno distrugge la vita, l'altro impedisce la vita. E questi sono gli investimenti che danno più reddito. Qua futuro ci spesa, è brutto. E le casse si riempiono di oggetti e si svuotano di figli, diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini, i gatti, questi non mancano, mancano i figli. Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici. Il numero delle nascite è il primo indicatore della speranza di un popolo. Senza bambini e giovani un paese perde il suo desiderio di futuro. In Italia, ad esempio, l'età media attualmente è di 47 anni. In Italia, ad esempio, l'età media attualmente è di 47 anni. Che iscriviti al canale. N